Presentato il progetto dell'asilo nido comunale La Caravella, che sorgerà a Madonna della Pace di Città Sant'Angelo in Via Torre Liquirizia. 2 milioni e 300 mila euro l'investimento complessivo per la realizzazione della struttura che avverrà entro due anni. Un edificio interamente in legno che sfrutta energie da fonti rinnovabili per il 92% e che ospiterà tre classi, da 3 agli 11 mesi, da 12 a 23 mesi e da 23 a 36 mesi per un totale di 60 bambini. Uno dei progetti di cui siamo più orgogliosi per diverse motivazioni. La prima, quando è uscito il bando del PNRR siamo subito adoperati per far sì che questo potesse diventare realtà ed oggi presentiamo un progetto avveniristico fatto anche da tecnici e ingegneri anche del territorio e questo caso ci inorgoglisce particolarmente. Dall'altra parte quella che è stata la mission di questa amministrazione sin dai suoi albori quella di aiutare le famiglie e creare più posti di lavoro per aiutare le famiglie soprattutto quelle famiglie che hanno impegni lavorativi nel dare un'educazione ai bambini ed un sollievo a tutte queste persone per riuscire a creare una migliore formazione di tutti i nostri bambini. 60 posti per bambini angolani e nonni.